La storia del cambio di Santolcese è particolare, una storia poi peraltro vissuta e costruita dai nostri cittadini, quindi è un legame storico col territorio. Anni e anni fa, ormai siamo ridossi i 25 anni fa, ospitavamo anche il Genoa, quindi c'è una storia calcistica anche per la città di Genova importantissima. Appena è uscita la notizia e l'accordo con Cavallo si è reso disponibile anche dalla nostra controparte, l'entusiasmo c'è perché c'è anche voglia di vedere il campo di Santolcese, rivedere, tornare a giocare a pallone, quello che negli ultimi due anni purtroppo è mancato. Si sta chiaramente partendo con un percorso nuovo, ad ora il campo è solo utilizzato dall'amatore rugby che fa del proprio volontariato anche la manutenzione del campo. Noi vorremmo vedere anche il calcio e perché no, come è assistito anche per tanti anni, il convivere insieme di due discipline così importanti anche a livello culturale e sportivo. Una novità che una squadra professionistica scelga la Liguria e si allenerà sul campo di Santolcese, ovviamente ci sarà anche un indotto importante per quel comune dal punto di vista anche turistico, perché ci saranno tanti curiosi, tanti appassionati che andranno a vedere gli allenamenti di questa squadra di serie B greca e quindi ci sarà anche il solito importante indotto economico che lo sport è in grado di muovere e quindi per noi è sempre quello spunto di riflessione che bisogna spuntare tanto sullo sport, tanto sulle manifestazioni sportive e anche adeguare la nostra impiantistica per ricevere sul nostro territorio visto che è bellissimo e importanti squadre e quindi ci prepariamo per ospitare grandi cose come sapete l'auspicio è quello di vedere partire dalla regione Liguria la grande partenza del Giro d'Italia. Questo è un buon inizio di partire giocando in casa, sicuramente è una grande esperienza, l'auspicio è di fare molto bene, la voglia c'è, la passione, lo studio totale del calcio per ottenere risultati importanti soprattutto dal punto di vista della squadra e mio personale.